Ultima giornata al Bit di Milano, presenti allo stand della Regione Marche con le telecamere di Video Tolentino e Radio Studio 7, con noi l'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane della Regione Marche e con l'occasione sarà presentata la prima guida delle Proloco delle Marche. Madrina d'eccezione, Maria Teresa Ruta. Le Marche le scoprirai all'infinito, il sesto senso è qui. Ai nostri microfoni il dottor Guido Tallarico, dirigente del turismo della Regione Marche, prima edizione per la Bit di Milano. Signor Tallarico, come è andata e qual è stata anche la risposta del pubblico e degli operatori turistici verso la nostra Regione? Buongiorno a tutti i telespettatori. Quest'anno veramente abbiamo lavorato molto bene perché per la prima volta stiamo lavorando nel senso di promuovere tutto il nostro territorio, tutte le bellezze delle Marche e stiamo lavorando per club di prodotto. Qui, come potete vedere nel nostro stand, c'è il club mare, c'è il cluster montagna, c'è il cluster enogastronomia, shopping. Ma la bellezza di tutto sta nel fatto che abbiamo coinvolto tutto il territorio, non solo gli enti pubblici, ma le associazioni, gli albergatori. Ecco, abbiamo voluto fare sistema. Fare sistema quest'anno è risultato per noi vincente perché abbiamo avuto oltre 150 buyer internazionali che sono venuti a dialogare con noi, a parlare e a conoscere il prodotto delle Marche. Abbiamo avuto delle manifestazioni, degli eventi importantissimi. Qui lo devo dire con grande successo della Regione Marche perché personaggi come Pippo Baudo, come Allevi, come Tognazzi, Lauteri, hanno avuto il piacere e abbiamo avuto l'onore e il piacere di essere presenti nel nostro stand e a parlare con la gente, con il pubblico, a far conoscere e a dare le loro esperienze della nostra Regione. Tutte le Proloco rappresentate qui. Abbiamo Acqualagna che presenta il suo tartufo, che è una grandissima eccellenza. Signori, ma noi abbiamo anche la birra, siamo produttori artigianali di birra. Abbiamo il gelato. Ecco, tutte piccole e grandi eccellenze della nostra Regione che dobbiamo far conoscere perché pochi sanno quello che è l'enogastronomia marchigiana. Conoscono benissimo lo shopping, conoscono benissimo il mare, le nostre strutture, ma tante eccellenze e dobbiamo essere propositivi e far conoscere. E' quello che abbiamo iniziato quest'anno alla BIT da far conoscere. Ai nostri microfoni il Presidente dell'Unione Nazionale delle Proloco Italiane della Regione Marche, Mario Borroni. Beh sì, oggi qui alla BIT, ma non è il primo anno, da diversi anni partecipiamo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che è la più importante d'Europa per il turismo, ecco il nome stesso che lo dice, e noi siamo qui con tutti i prodotti di eccellenza delle Marche. Quindi non nomino nessuno per evitare di dimenticare qualcuno, ma ce ne abbiamo tanti. E oggi ne abbiamo portati tutti i prodotti, ma non solo i prodotti, oggi abbiamo l'eccellenza delle rievocazioni storiche delle Marche e il folclore con il gruppo folclorico Hortensia. Quattro giorni anche pesanti dal punto di vista organizzativo, che tutta la struttura, grazie alla segreteria, grazie ai numerosi volontari e a tutte le prologo della Regione, si è potuto fare, con molti sacrifici ma anche con tante soddisfazioni immaginiamo. Beh, i sacrifici si fanno prima, le soddisfazioni vengono al lato dello svolgimento della manifestazione, quindi su questo siamo contenti e orgogliosi di avere 221 prologo nelle Marche a noi affiliati che collaborano intensamente con l'Umbri. Quest'anno anche una novità, la presentazione della prima guida, possiamo dire, del prologo della Regione Marche. Come è nata questa idea, questa esigenza e come si è sviluppata nel tempo? Ma io prima di fare il Presidente regionale, ho fatto per circa 30 anni il Presidente regionale di una piccola prologo delle Marche, Ortezzano, un paese di 800 abitanti, e nelle nostre feste, girando per le varie manifestazioni, tante brochure, tante idee, però singolarmente ogni prologo si organizzava per conto loro, però non c'era un opuscolo che racchiudesse un po' tutto. Noi, il giorno delle elezioni, il 16 giugno, la prima cosa che ho detto, vogliamo fare questa guida di tutte le manifestazioni, non solo le non gastronomiche, culturali, folcloriche, qualsiasi cosa che organizza le prologo. E di questo devo dare atto, devo ringraziare tutto il Consiglio Direttivo che mi ha supportato in questa iniziativa, e oggi siamo qua con in mano questo buscoletto che per noi è preciosissimo perché qui i turisti trovano tutto quello che fanno le prologo delle Marche. E di fatti il titolo è sintomatico, Girando le Marche con il cuore delle prologo. Ecco, quindi in un settore come quello del turismo, ancora di più fare squadra, fare unione è determinante, e questa guida forse è una risposta alla domanda di fare squadra. Sì, sicuramente, ma noi abbiamo fatto anche per un altro motivo, che è un buon nascosto, noi siamo tacciati di essere quelli delle sagre, noi prologo non facciamo solo sagre, noi, come dicevo prima, gestiamo siti archeologici, uffici informativi, facciamo anche sagre, è vero, facciamo per guadambiare, però quello che le prologo guadambiano lo rinvestono nel territorio, con attrezzature e con manifestazioni sempre più importanti e sempre più qualificanti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Sono sempre più numerose ed importanti le rievocazioni storiche che fanno rivivere di storia e nella storia molti dei paesi dell'Italia e le Marche non sono sicuramente da meno. Non a caso è nata, esiste un'associazione, l'Associazione Marchigiana delle Rievocazioni Storiche e ai nostri microfoni il Presidente Giovanni Martinelli. Presidente, un'associazione con un'importanza determinante per molti paesi per rivivere questa storia e tramandarla soprattutto alle future generazioni. Quest'anno la nostra associazione compie 20 anni, associa 26 città delle Marche e esiste per dare un valore aggiunto, cioè attraverso la ricerca storica fare spettacolo, perché la differenza tra rievocazione storica e manifestazione in costume è fondamentale. Noi rievochiamo i veri fatti, cerchiamo attraverso la ricerca di far diventare spettacolo la vera storia delle città. Attraverso questo le città possono avere una valorizzazione culturale che a sua volta diventa funzionale alla promozione turistica del territorio. Promozione turistica del territorio, anche un po' di campanilismo, perché sicuramente c'è anche quella sfida dentro di far conoscere e riconoscere nella storia il proprio paese. Questo è vero, di fatti ogni manifestazione ha una sua unicità, una sua originalità, e il valore della nostra associazione, quindi della collaborazione fra associazioni, è che noi lavoriamo perché ci sia il vero campanile, però siamo riusciti a fare in modo che tutte le campane suonino nella stessa intonazione. Quindi ogni manifestazione corre per se stessa perché sia maggiore rispetto al passato, più bella, più aderente al fatto storico, più aderente alla tradizione, ma allo stesso tempo facciamo rete, cioè le nostre manifestazioni lavorano insieme non solo per la ricerca ma anche per la promozione, anche per manifestazioni di rete. Ad esempio quest'anno noi abbiamo il Palio Arceri della Marca, che è nato l'anno scorso all'interno della nostra associazione. Il 26 di maggio faremo la parata delle città storiche delle Marche a Firenze, sarà un omaggio a Firenze che è la capitale ideale delle città storiche in quanto sede della Federazione Italiana, ma sarà anche un momento di aggregazione e di promozione delle Marche all'esterno in un contesto naturale per quella che è la nostra attività storica. Quindi una promozione, uno scambio culturale tra le regioni, la BIT sicuramente è un'ottima vetrina, un ottimo palcoscenico per promuovere ciò, ma dietro a tutto questo ci vuole appunto un'associazione, una grande struttura. Come siete strutturati nella vostra associazione, Presidente? Noi siamo la sintesi del volontariato, perché le nostre manifestazioni rappresentano forse uno dei volontariati più importanti. Peraltro siamo una sintesi di mondo dell'associazionismo, siamo una sintesi di valorizzazione culturale, siamo una sintesi di promozione turistica. Passi il fatto che ognuna delle nostre città, dalle più importanti Ascoli, Urbino, Fermo, piuttosto che non piccole località, utilizzano le manifestazioni come momento di immagine. Quindi rappresentiamo anche l'immagine delle città e non ultimo, consentitemi, rappresentiamo anche sicuramente di piccolo indotto, ma anche un volano economico. Si pensi solo alla valorizzazione delle tipicità, si pensi solo ai momenti attraverso queste manifestazioni ludici, si pensi anche all'interno di altre manifestazioni che si svolgono nelle varie località, quale valore aggiunto può portare una manifestazione storica attraverso tutti questi aspetti. Quindi qui alla BIT penso che è intelligente il fatto che la regione Marchi abbia scelto anche noi per veicolare all'esterno l'immagine di una regione dinamica, di una regione che ha un background culturale importantissimo e che attraverso questo promuove il turismo con una realtà di nicchia come quella delle rivocazioni storiche. Attrice, showgirl e testimonial di questo importante evento per la regione Marche e soprattutto per la prologo, per la presentazione di questa prima guida delle prologo delle Marche. Maria Teresa Ruta ai nostri microfoni. Salve, salve a voi, sono veramente felice di essere qui, anche perché io le Marche le adoro, nella mia infanzia spesso da pano in giù sono stata portata sulle vostre bellissime spiagge e anche la cultura e la gioia folcloristica delle Marche mi sono molto care perché veramente sono state tantissime le manifestazioni che mi hanno visto protagonista e adesso poter presentare questo libro per me è una cosa molto importante perché le Marche detengono questo straordinario record 239 comuni, 221 prologo, quindi è una terra da record. 221 prologo vuol dire veramente tanta creatività, tanta inventiva e tante opportunità per i turisti che vengono nelle Marche e di venire a contatto con le antiche tradizioni, con la cultura, con l'astronomia quindi si passa dal brodetto a Recanati. Sambiamo tutto, una madrina preparatissima, attentissima, è veramente amante della nostra regione, avete sentito i numeri e possiamo dire una cosa, ha mantenuto quel sorriso fantastico che qualcuno nello sport a tempo fa ti chiamava il sorriso che non conosce i confini. Il sorriso che non conosce i confini, è vero, è vero, il grande Sandro Ciotti. E con il sorriso credo che si conquisti proprio il pubblico. Le Marche sono straordinarie perché abbinano la cultura della grande laboriosità, una cultura artigiana molto importante che sia per stato un substrato molto importante per l'industria italiana e poi l'opportunità del grande turismo, grande e straordinario turismo con le coste fantastiche, ma anche con i pali, anche con Camerino, veramente le opportunità per venire nelle Marche sono tantissime e quando uno arriva lì se ne innamora. E l'altra cosa molto importante sono i costi, i costi per il turista sono contenuti nelle Marche, cosa che invece in altre regioni, vuoi per nomea, vuoi per organizzazione, sono diversi. Mentre devo dire che nelle Marche il rapporto qualità-prezzo è forse uno tra i migliori in Italia. Maria, noi ti aspettiamo nelle Marche quanto prima allora? Senz'altro, sono già lì. Non è neanche italiana di dov'è? Del Marocco! La massima integrazione nel paese più piccolo delle Marche! Grazie, grazie. Io mi sento a casa, sono italiana. Ho scelto di essere italiana e sono orgogliosa di essere il presidente della Proloco più piccola delle Marche. La massima integrazione nel paese più piccolo delle Marche. La massima integrazione nel paese più piccolo delle Marche. la massima integrazione nel paese più piccolo delle Marche. Grazie.